Dove stiamo andando? Al mercato Burdaro Come gli amici che mia mamma mi ha sempre detto di non salutare Adesso sono i miei testimoni di notte Che hai preso? L'olio del gang, l'ambra E la roba abbezzatura Che ci stai portando Ale? A casa Per me E la roba abbezzatura Ehi Ehi Ciao Franci, mi sta spiegando come cavalcare il riff e prendere le green waves Mi stai diventando? Cazzo Buona lezione Ciao Sei da addio Cosa stai facendo? Andando? Faro dai sballei Cosa stai facendo? Mi 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 Dove siamo Fede? Siamo all'Istoteso Eva, cosa stiamo facendo? Stiamo pulendo il mondo Ma tante altre settimane così